Approvato in giunta il quadro conoscitivo del PUMS, il piano di mobilità urbana sostenibile del Comune dell'Aquila, che l'assessore Carla Mannetti e il sindaco Pierluigi Biondi hanno illustrato. Uno strumento che la città attendeva da anni, fermo restando che si dovrà arrivare al piano vero e proprio, un'analisi attenta per rilevare punti di forza e criticità in città. Studi sul traffico, sulle aree di sosta, sul traffico in prossimità delle scuole e sui parcheggi, ovviamente dati interessanti che vengono fuori dalle rilevazioni e fondi. Un tesoretto, lo ha definito l'assessore Mannetti, che già ci sono. È un quadro molto interessante che ci consentirà di fare una programmazione seria della mobilità sostenibile per il futuro della città. Ovviamente emerge un uso dell'auto, diciamo così, molto forte da parte degli aquilani. Si parla di 260.000 spostamenti elementari al giorno, che è un dato, diciamo così, importantissimo. Altri dati interessanti emergono proprio dall'analisi dettagliata che abbiamo fatto del piano della sosta, dove abbiamo verificato che ci sono alcune aree che raggiungono proprio il limite di saturazione e altre aree invece che stanno al di sotto del limite di saturazione. Quindi proprio da quello si partirà, per esempio, per la programmazione della sosta, per la programmazione dei parcheggi, fermo restando quello che abbiamo sempre ripetuto, che all'interno delle mura, nel centro storico, non saranno fatti parcheggi a pagamento, ma solo parcheggi orari. Al di fuori invece si sta ragionando per parcheggi a pagamento. Ma non è solo questo, è stata fatta pure tutta l'analisi del trasporto pubblico locale, quindi un'analisi puntuale dell'AMA, degli autobus, dei chilometri percorsi, e anche da lì si partirà per la riorganizzazione e riprogrammazione del trasporto pubblico locale. La cosa importante che ci ha fatto rilevare anche il nostro coordinatore scientifico è che questo piano parte già con una sorta di tesoretto, cioè una buona dotazione finanziaria di circa 41 milioni di euro per progetti che abbiamo presentato in passato, mobilità elettrica, sviluppo sostenibile, quindi piste ciclabili, e questo è un fattore molto importante per la riuscita e la programmazione della mobilità sostenibile.